Benvenuti e benvenute all'appuntamento del martedì con il Mixed Media. Questa mattina ho scelto per partire una carta di Gabrielle Bernstein, che sono carte molto belle, molto ispirate e direi danno forza, sincronicità a quello che si sta facendo, perché, guarda un po', questo mese la parola e la scelta che ho fatto è stata quella della consapevolezza. Quindi tutto questo mese sarà dedicato alla consapevolezza e tutti più o meno sapete il significato di questa parola, ma ha semplicemente il significato, forse non vi siete mai soffermati o fermati a riflettere un po' più a lungo di cosa significa. Bene, vi guiderò con questi quattro appuntamenti su che cosa è la consapevolezza, chiaro molto, molto limitatamente in quanto stiamo facendo un percorso più creativo, però, se andrete a leggere sul blog, scriverò sempre qualcosa che possa darvi uno spunto, che possa portarvi ad una riflessione. Cominciamo con una pagina bianca, con questa carta che è molto importante e ispiratrice, e la pagina bianca ho deciso di utilizzare i Magical, queste polveri, questi pigmenti che sono stupendi e sono molto, molto luminosi. Cosa ho fatto? E' quello che vi consiglio di provare a fare. Chiudete gli occhi, prendete i vostri pigmenti che avete a disposizione, metteteli sul foglio bianco, e con gli occhi chiusi scegliete due, tre pigmenti a occhi chiusi, facendo un bel respiro e andando a scegliere semplicemente senza guardare il colore. Dopodiché, scelti i colori, io ho scelto, cioè sono usciti questi tre, cosa ho fatto? Ho semplicemente spruzzato d'acqua il foglio bianco e con un pennello ho versato, ma proprio così picchiettando la polvere, il pigmento, sul foglio. E il risultato è questo. Quindi questi tre colori mi hanno dato questo. Bene, ho lasciato asciugare. Non evitate, non toccate il colore, non fate nulla, semplicemente lasciate che l'acqua e il colore si mescolino insieme per creare questo. Deve venire fuori un'esplosione, deve venire fuori un qualcosa di non programmato e deve avere questa bellezza. E credo veramente, se voi riuscite, non si vede benissimo, ma ha una luminosità incredibile. È veramente come se fosse un'esplosione, ma un'esplosione non di fuoco, ma di profondità. Ecco, questa è un po' l'idea che mi ha dato questa immagine. Bene, adesso proseguiamo. Non voglio perdere la bellezza di questa pagina, anche perché mi piace, mi piace il tono di colore che si è creato, e quindi voglio mantenerla abbastanza così com'è. Allora, ho usato gli splash sia il bianco che il nero della Ieda, della 13 Arts, spruzzando e creando così la pagina in questo modo. Adesso vado ad aggiungere, vediamo, ho ritagliato questo pizzo che ha lo stesso colore del pigmento corallo. Penso che... Metto questo cerchio viola. Un pezzetto di tessuto. Sì, penso di andare a creare qualcosa così. Con il mio gel ho passato sotto qua, così, ho messo il pizzo, ho messo il cerchio viola e ho scritto la parola profondità, visto che era questa l'immagine che mi è salita alla mente quando ho fatto questo gioco di pigmenti. Quindi, una pagina per cominciare questo percorso, una pagina che parla di profondità. Quanto andiamo in profondità? E quanto ci ascoltiamo? Senza, in questo caso, senza mettere un giudizio, ma semplicemente così. È nata questa pagina così e così mi è piaciuta. Vi auguro una buona giornata, vi auguro di pensare a questa parola e di andare a leggere sul blog cosa ho scritto sulla consapevolezza e sul percorso che andremo a fare insieme. Se vi va, iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi. Buona giornata! Ciao!